Dramma della solitudine a Palermo. Una donna di 89 anni è morta stamani nell'incendio accidentale della sua abitazione in via della Favorita. Le fiamme si sono sviluppate a causa di un cortocircuito che avrebbe avuto origine dal vecchio televisore che si trovava nell'appartamento al terzo piano dello stabile. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini che hanno notato fumo uscire dalla finestra. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare in casa usando l'impalcatura montata per la ristrutturazione della facciata, hanno velocemente avuto ragione una delle fiamme. Ma per Giovanna Pusateri, che quest'anno avrebbe compiuto 90 anni, non c'era già più nulla da fare. Dalle prime analisi non sembrano esserci dubbi circa l'accidentalità del drammatico evento.